Alla fine i chiarimenti e le scuse hanno riportato tutto alla normalità, ma si erano vissuti attimi piuttosto caldi in via Lombardo Radice, dove un paio di residenti della zona nel pomeriggio di domenica hanno dato vita a un faccia a faccia movimentato. Il tutto secondo quanto emerso finora a causa di un parcheggio conteso, con ognuno dei due che ne rivendicava il diritto senza volersi tirare indietro. La lite ha assunto toni forti, tanto che in strada sono scesi anche i familiari dei due protagonisti, con il rischio che la situazione degenerasse in una rissa. Altri abitanti di via Lombardo Radice però si sono accorti dell'accaduto e hanno subito chiamato il 112. Sul posto è arrivata rapidamente una volante della polizia e gli agenti sono riusciti a calmare gli animi, evitando che la situazione degenerasse.